Buonasera a tutte e a tutti, grazie per esservi collegati. Io sono Giovanni Pellegrini, regista della Città delle Sirene, il documentario che con Ginko Film presentiamo in anteprima, streaming oggi come omaggio alla città di Venezia, un anno dell'allusione del 2019. Abbiamo qua con noi Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, che ringrazio per aver accettato di presentare brevemente questo documentario. Grazie Giovanni, è un documentario che ho visto con piacere, per cui insomma raccolgo l'invito, anzi sono io che ringrazio per avermi invitato a parlare di questo film che racconta dell'acqua granda che c'è stata a novembre un anno fa sostanzialmente. Ti faccio subito una domanda per entrare nel vivo del film, che intanto vabbè, come l'hai girato? Perché sembra che hai colto proprio la situazione al volo e intanto se l'hai girato con una truppa, hai girato da solo, come è stata proprio la lavorazione in quei giorni? Beh, allora ho cominciato con il mio cellulare perché sì, io ero venuto qui in studio e nel documentario si vede questo studio completamente allagato e sapendo che probabilmente sarebbe successo qualcosa di grosso, però ovviamente non avevo il tempo di badare sia all'acqua che alle riprese, quindi avevo il mio cellulare e come tantissimi veneziani ho fatto dei video sul momento. E poi dal giorno successivo ho preso la mia telecamera, io l'attrezzatura ce l'ho sempre pronta anche perché è da un pezzo che sto preparando questo documentario Venezia liquida che vuole raccontare un po' la realtà della città di Venezia con le sue luci e ombre nel 2020, quindi l'attrezzatura è sempre pronta e ho chiamato il mio fonico di fiducia Alessandro Romano e con l'aiuto di alcuni amici che magari ci accompagnavano con la mia barca siamo andati a fare riprese seguendo un po' il mio istinto, andando a filmare i luoghi a me più cari e cercando di documentare questo avvenimento che comunque posso definire epocale insomma per noi veneziani. Chiedo una cosa, siccome da allora ad oggi è successo un altro evento, esito a definire epocale perché forse non definitivo, comunque non ho gli strumenti per dirlo, cioè il funzionamento del Mose. Ora, siccome all'epoca ovviamente ancora non funzionava, mi chiedo, la domanda che ti sono fatto è, è un po' il grande assente di questo film, è una scelta? Perché è così? Sì, ho cercato, non ho voluto scadere in un'analisi giornalistica, diciamo, degli avvenimenti e raccontare quello che è stato il vivere l'acqua alta senza il Mose o con una certezza, cioè che il Mose non ci avrebbe aiutato, almeno fino a quel momento lì. Sì, e quindi ho evitato di entrare in questo argomento anche per non perdermi, devo dire, nella marasma di polemiche e di dubbi, incertezze, interpretazioni e dittologia che questa cosa avrebbe comportato. E quindi mi sono limitato a, diciamo, documentare attraverso dei titoli di giornali quello che era lo stato dell'arte, diciamo, di questa opera, cioè un cantiere immenso di cui si sapeva poco, se non che, cioè tutto quello che sapevamo erano le ruberie che sono state fatte negli anni e grandi dubbi sul suo funzionamento. Adesso il Mose ha funzionato e ci auguriamo che continui a farlo sempre. Senti, ti chiedo un'altra cosa e poi concludo questa breve presentazione. Su Venezia Liquida, visto che abbiamo anche delle buone notizie sul progetto, di che cosa si tratta? Quando lo realizzerete? Beh, allora, Venezia Liquida, appunto, parte delle riprese sono state fatte in questa settimana di alluvione dell'anno scorso. Il grosso delle riprese doveva essere fatte tra aprile, marzo, maggio di quest'anno e ovviamente il lockdown non ci ha permesso di farle come era stato previsto. Il racconto sarà quello di una città che si confronta appunto col cambiamento climatico, il turismo di massa e i problemi adesso connessi, quindi anche la perdita del tessuto sociale o lo smembrarsi dalle realtà cittadina in funzione di una trasformazione turistica che è stata molto importante. Però diciamo che il lockdown e l'acqua granda ci hanno presentato poi una situazione di Venezia in cui quello che si voleva narrare era appunto l'impatto del turismo di massa e la sceneggiatura necessariamente è cambiata e quindi si racconterà in negativo l'assenza del turismo e anche quello che potrebbe comportare a livello sociale. Le riprese sono state fatte durante gli anni, comunque abbiamo un pescatore, un artigiano, un appassionato del mondo della vogala veneta, la vela al terzo, insomma voglio raccontare un po' il mondo acquatico della città di Venezia raccontandolo però da un punto di vista di un abitante amante della propria città come me e raccontandolo nel mio mondo cioè quello delle barche perché io tra la passione, la necessità e la comodità di muoversi in barca conosco molto bene questo aspetto di Venezia che non a tutti è dato conoscere e quindi penso che questo film avrà appunto un punto di forza nell'essere un racconto diciamo non consueto e fatto dal di dentro. Grazie. Approfitto per dire che insomma stiamo montando, sono davanti al computer su cui stiamo elaborando le scene e il documentario sarà pronto nei primi mesi dell'anno prossimo quindi manca poco e sì appunto questo documentario della città delle sirene è fatto con materiale che non poteva entrare nel in Venezia liquida ma che sufficientemente anzi è molto potente a mio avviso e quindi ne abbiamo fatto un documentario a parte. Jacopo io ti ringrazio molto per aver accettato di presentare questo lavoro e beh già. Grazie a te di nuovo dell'invito. Spero di invitarti in presenza alla premiere di Venezia liquida a questo punto e che insomma mi faccio voce di tutti i videomaker, filmmaker, produttori veneti e ci auguriamo che la collaborazione con te e la Film Commission porti buoni frutti come sta già avvenendo da quello che posso vedere. Quindi grazie e un saluto a tutti e buona visione.